Inchino! Inchino facilissimo! Allora, inchino ci si inchina giù, si va giù, così, di 45, come una bottiglia di champagne, di 45, anche 50, 55, 90 gradi, angolo retto, 180, ma a quanto ci si inchina? 180 gradi, così. Guarda i girasoli, si inchinano al sole, ma se ne vedi qualcuno che è inchinato un po' troppo, significa che è morto. Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema, Dio è il primo servitore. Dio serve gli uomini, ma non è servo degli uomini.